bene iniziamo il viaggio con questa nuova compagna d'avventura che voglio conoscere anzi nei due compagni d'avventura oggi suzuki vitara e sonia caramma esatto da msk partiamo dal corso primo levy 23c e dove possiamo andare andiamo verso tettine ai rotti dai allora il viaggio si preannuncia però è molto confortevole no come 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 vettura devo dire quindi non si tratta di un vero e proprio restyling è una vettura completamente nuova con nuovi punti di vista e nuove prospettive nuove sospensioni nuovo nuove strumentazioni un cuscotto completamente nuovo il volante completamente nuovo con nuove pelli nuovi interni anche qui tra l'altro lo diciamo subito quella che noi stiamo provando è un po la top di gamma e la star view dove praticamente avete oltre la top che è il suo allestimento il tutto ancora in più ovvero un tetto panoramico che vi permette di avere luce sempre in macchina soprattutto in inverno quando magari nelle città grigie buie insomma voi aprite la vostra tendina schiacciando qua ma possiamo che aprirla che aprirla la giornata ce lo permette esatto e la luce entra nella vostra nella vostra auto poi se avete caldo vedete anche in maniera basculante nella prima posizione ma potete poi aprirla completamente avere proprio l'estate nella vostra vettura quindi più ricca di dettagli ecco rispetto a prima decisamente però è migliorata anche per quanto riguarda la sicurezza soprattutto ci sono questi nuovi sistemi che ti avvisano praticamente su tutto su più fronti non ti permettono di addormentarti esatto non puoi perdere il controllo della vettura non te lo fanno perdere assolutissimamente quindi ti tutelano tutelano la tua incolumità in toto ecco in questo caso ti dice che questa strada io devo fare i 50 all'ora perché ha letto quel segnale che passiamo e che non possiamo superare perché c'è una riga continua quindi sicurezza esclusiva anche nel viaggio insomma non ti puoi distrarre assolutamente assolutissimamente però tu parlavi di io parlavo di frenata anche di emergenza l'assistenza alla frenata vi dà la possibilità non dico di sbagliare ma può succedere di non vedere un ostacolo oppure è un che passa attraversa velocissimamente radar lo capta e vi dà l'aiuto alla frenata fino a inchiodare la vostra vettura ma non c'è solo il sistema attento frena c'è anche il sistema guida dritto guida dritto infatti se noi cambiamo corsia senza usare gli indicatori di direzione la vostra vettura fa sì che vi che fate attenzione a cosa fate quindi vi verrà il cuscotto e si illumina per dire attenzione perché tu non stai andando dritto e se devi cambiare carreggiata devi segnalarlo con l'indicatore di freccia quindi anche il sistema guarda spalle guarda spalle soprattutto dopo i 15 chilometri orari se una vettura vi passa o a destra o a sinistra quindi il famoso angolo cieco lo segnala tramite un avvisatore situato sul vostro specchietto che vi ricordo è anche riscaldato quindi avete la possibilità anche d'inverno di avere sempre una visibilità ottima schiacciando il tasto del l'unotto termico quindi sicurezza al top di gamma proprio ma per quanto riguarda invece i motori solo benzina motori solo benzina questa è la scelta che ha fatto ormai da maggio dell'anno scorso quindi 2018 suzuki adesso quella che stiamo provando 1.4 turbo booster jet esclusivo suzuki da 140 cavalli quella che stiamo provando tra l'altro è un cambio automatico e quattro ruote motrici sistema all grip quindi perché potete scegliere la vostra bitara o 1.4 due ruote motrici o quattro ruote motrici automatica o cambio manuale mentre per quanto riguarda il motore ultimo arrivato il 1000 turbo tre cilindri con tante prestazioni da 112 cavalli e anche su questa vostra 1000 potete scegliere un allestimento due ruote motrici o quattro ruote motrici o cambio automatico oppure scegliere anche qui la star view dove avrete veramente tutto tutto di serie anche il design comunque accattivante no è cambiato qualcosa anche all'esterno abbiamo adesso oltre a avere i led nella parte anteriore dei fanali anche il posteriore i fanali sono completamente ridisegnati nuovi e hanno tre file di led quindi più fashion insomma piccolino ma neanche poi tanto 4 metri 18 quindi molto confortevole esatto confortevole per la famiglia non esatto con il doppio carico e vi ricordo una cosa importante che dimenticavo di dire per chi vuole consumare ancor meno la possibilità di montare un impianto ufficiale brc per suzuki dove verrà posizionato al posto del vostro kit di gonfiaggio dove vi permetterà per tutti quelli che abitano nella giovane piemonte di non pagare cinque anni di vollo non hai parlato di prezzo marco a partire da 17.900 euro se avete una vettura da rottamare parliamo della gamma 1000 turbo quindi c'è l'incentivo cool esatto con veramente tanto tanto di serie quindi non comprate una macchina base perché la base non esiste per suzuki è già una macchina completa poi chiaramente per chi vuole qualcosina in più aggiunge qualcosina e ha il massimo nella gamma poi dimenticavo una cosa importante tre anni di garanzia quindi già di serie e tra parentesi per chi ci ascolterà in questo momento e potrà venire a trovarci in questo momento abbiamo delle campagne finanziarie tra l'altro importantissime dove suzuki fa ancora uno sforzo oltre le campagne di sconto e di rottamazione di omaggiarvi altri due anni di garanzia ufficiale quindi cinque anni cinque anni way of life a tutti gli effetti a tutti gli effetti a tutti